Eccoci nell'appartamento, subito all'ingresso, sulla destra abbiamo questo bagno interamente ristrutturato, finestrato e con lavatrice. Accediamo poi alla zona giorno, molto sanziosa, luminosa e con questa bellissima cucina vista contenta di elettrodomestici e nuova. E' presente anche l'area condizionata e da qui accediamo sul balcone. Entriamo poi nella camera da letto, matrimoniale, molto spaziosa e con questo fantastico armadio muro. Contattateci per venire a vedere.